Non sai cosa disegnare se è un po' nervoso? Partiamo da una parabola, con una sorta di ombrellino sotto Escrescenza come testa, da razza a razzo è un attimo Coda ad uncino, giallo arancione, rosso per i colori Se non vi piacciono usateli lo stesso No scherzo, fate quello che volete Questi animali sono toccati da tutti all'acquario Saranno contenti le mamme razze Qualche schizzata è a posto Fatemi vedere le vostre, ciao ragazzi